Ieri sera, venerdì 9 settembre 2022, è andata in onda su Rai 1 la la prima puntata dei Team Music Award 2022 condotta da Carlo Conti e Vanessa in contrada, ma quanto ha fatto in termini di ascolti TV? Ecco tutti i dati Auditell e Locher Ieri sera, venerdì 9 settembre 2022, è andata in onda su Rai 1 la la prima puntata dei Team Music Award 2022 condotta da Carlo Conti e Vanessa in contrada, ma quanto ha fatto in termini di ascolti TV? Ecco tutti i dati Auditell e Locher Leggi anche, Tiziano Ferro e il marito Victor papà di due figli, chi è la mamma? Fotoascolti TV ieri sera 9 settembre 2022, quanto ha fatto la prima puntata dei Team Music Award 2022? I Team Music Awards hanno conquistato 2 859.000 spettatori pari al 20,4% di share, mentre su Canale 5 Benvenuti al Sud ha raccolto davanti al video 1 991.000 spettatori pari al 13,6% di share. Su Rai 2 il tempio della velocità ha interessato 516 991.000 spettatori pari al 3,4% di share. Su Italia un attacco al potere 2 ha catturato l'attenzione di 1 111.000 spettatori, 7,1%. Su Rai 3 elezioni politiche 2022, conferenze stampa ha raccolto davanti al video 375 00.000 spettatori pari ad uno share del 2,3%. Su Rete 4 quarto grado totalizza un A. M. di 935.000 spettatori con un 7,7% di share. Sulla 7 propaganda live ha registrato 621 00.000 spettatori con uno share del 5,4%. Su TV 8 i delitti del bar Lume, Compro Oro ha segnato il 2 3% con 355.000 spettatori Aldo, Giovanni e Giacomo, Telchi e il Telum sul 9 ha catturato l'attenzione di 340 00.000 spettatori, 2,4%. Su Rai Premium io ti cercherò si porta all'1 2% con 186.000 spettatori. Team Music Award 2022, quando va in onda? La nuova edizione di Team Music Award 2022 andrà in onda in giorni diversi della settimana e anche in orari differenti Trovate il calendario completo cliccando qui. Team Music Award 2022 scaletta cantanti, chi sono gli ospiti della prossima puntata? Il cast dei Team Music Awards è ricchissimo e variegato, di seguito tutti i cantanti ospiti delle puntate Antonello Venditti e Francesco De Gregori Alessandra Amoroso Ariete Biagio Antonacci Blanco Bresch Brunori Sass Capo Plaza Chiello Coezco La Pesce Edi Martino Dargendamico Elettra Lamborghini Elisailo Di Fabri Fibra Fabrizio Moro Fedez Francesca Michelin Francesco Gabbani Franco 126 Gianni Morandi Gigi D'Alessio Guepeche Noirama Ketama La Rappresentante di Lista La Zalele Bleite Luque Luigi Strangis Mahmood Mara Sattei Marco Mengoni Marrakesh Maurizio Carucci Max Pezzali Micamo Dannec North Tove Loretto Nois Narco Spacchi Pinquinitattici Nucleari Raff Rover Riccardo Cocciante Arcomi Rocco Ante Salmo San Giovanni Schablosi Club Tananai Cosa c'è stasera, 10 settembre 2022, in TV su Rai 1 e Canale 5? Lo scontro a colpi di Ascolti TV di stasera, invece, vedrà la seconda puntata dei Team Music Award 2022 su Rai 1 e il film Croce e Delizia su Canale 5. Non segui ancora su Instagram? Resta aggiornato con le novità sui programmi TV, gli Ascolti TV di ieri sera 9 settembre, le curiosità sulla prossima puntata dei Team Music Award 2022 sulla programmazione di Rai 2 1 e sui due conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.